È stato necessario un lungo iter a livello nazionale, ma dal 15 luglio scorso in tutta Italia sono entrate in vigore, con indicazioni vincolanti per tutte le strutture autorizzate, le nuove linee guida della legge 40 sulla procreazione assistita, che comprendono anche la tecnica eterologa. Ad illustrare le novità, l'assessore provinciale alla sanità Marta Stoker è il primario del reparto di ginecologia dell'ospedale di Brunico, Bruno Engel, nosocomio nel quale potrà essere effettuata la procreazione assistita con la tecnica eterologa. Allora, la situazione cambierà, siccome tutti noi abbiamo subito il problema della legge 40 del 2004, la quale viettava tutte le tecniche eterologhe. In seguito, tutte le coppie che hanno avuto problemi di ovodonazione e donazione spermatozoi si dovevano recare all'estero. Adesso, dopo un lungo hit che ha iniziato 2009-2010, con la sentenza della Corte Costituzionale dell'anno scorso, abbiamo questa nuova direttiva, questa nuova legge che adesso passerà anche nella nostra provincia. Vuol dire che noi ai nostri centri possiamo o potremo offrire tecniche con ovodonazione e donazione dei spermatozoi. Allo stato attuale, in provincia di Bolzano, non vi sono ancora donatori. Allora, lì penso che sarà ancora un hitter abbastanza lungo perché manca la cultura del donatore e della donatrice. Allora, siccome la nuova direttiva prevede nessuna remunerazione, dobbiamo trovare una possibilità di avere questa cultura. Ovviamente non vanno escluse difficoltà, paletti e liste per poter accedere alla procreazione assistita. Ci sono tanti paletti, sia per chi può usufruire di questo, anche per i donatori e per i donatrici. La scelta è relativamente perché si possono chiedere il tipo, il colore degli occhi fino al gruppo sanguigno, ma non sarà sempre possibile, penso, di avere queste possibilità. Il primario Engel ha infine evidenziato che nel centro di riproduzione di crioconservazione presente all'interno del reparto di ginecologia dell'ospedale di Brunico vengono trattate dalle 1.000 alle 1.500 coppie all'anno. Il 60% sono altoatesine, circa il 12% proviene dal Trentino e il rimanente 38% dal resto d'Italia. La percentuale di successo si aggira intorno al 25-26%.